musica awanagan amici e benvenuti su un nuovissimo vlog qui su house of lord oggi avevo intenzione di registrare, giocare, preparare, registrare, montare, insomma fare tutto quello che devo fare il nuovo gameplay che avrei voluto far uscire domani purtroppo non è così non è così non perché il gioco non funzioni o perché il programma di registrazione non vada il problema è che le mie cuffie, le mie mitiche cuffie che mi hanno accompagnato dal primo video fino ad oggi mi hanno abbandonato purtroppo ieri sera nella fretta sono inciampato nel filo, le cuffie erano collegate nel USB del mio computer e sono inciampato nel filo perché io di solito quando smetto di fare un gameplay butto le cuffie sul letto si crea così una specie di ponte tibetano tra il pc e il mio letto io devo andare a chiudere la finestra che si trova appunto tra la scrivania e il letto e sono inciampato nel cavo delle cuffie purtroppo il cavo si è tirato e essendo rimasto attaccato mi si è piegato praticamente si è un po' piegato adesso qua lo vedete dritto perché l'ho sistemato io ma si è praticamente piegato questo coso qua e non era la prima volta che mi capitava appunto sta roba qua purtroppo sono morte insomma il computer quando le inserisco fa il famoso suono di periferica riconosciuta e attiva ma non succede nulla infatti non si illumina nulla qui dovrebbe illuminarsi un puntino rosso insomma niente sono proprio morto ho provato a registrare sto gameplay e niente la mia voce proprio non si sentiva io comunque di girare gameplay dove la mia voce non si sente non voglio perché comunque si perde anche un po' secondo me il bello di vedere un gameplay vedere un gameplay piace quando chi lo fa commenta fa commenti, fa battute eccetera eccetera vedere soltanto un gioco così che scorre senza la voce di chi lo sta facendo secondo me è inutile è meglio allora comprarsi il gioco o leggersi una rivista che parla del gioco niente purtroppo oggi io non riesco ad andare a prendere le cuffie sicuramente le comprerò domani quindi purtroppo né oggi né domani perché andrò a comprarle domani che sarà già sera perché nel pomeriggio purtroppo sono impegnato quindi niente per due giorni ragazzi dovrete fare a meno dei gameplay comunque oggi butto fuori questo video qua quindi almeno sapete già che domani non dovete aspettare nulla né gameplay né altre cose ho comunque novità nel senso ho praticamente tre nuovi gameplay da fare una sarà una serie più o meno lunga bisogna vedere che è quella appunto che dovevo girare oggi un altro idem nel senso non so se sarà lunghissima ma comunque una decina di puntate probabilmente però quello ha un problema devo vedere se riesco a registrarlo perché purtroppo con fraps né con action né con hypercam né con altri due programmi che ho provato non so perché il gioco si apre ma praticamente non riesco a registrarlo e il terzo gioco invece sarà una roba cortissima quindi una roba che butterò fuori penso proprio questo weekend e sarà una roba proprio di una puntata ma è un gioco che sicuramente molti di voi in passato parlo dagli anni 90 adesso metà anni 90 diciamo no, facciamo anche fine anni 90 secondo me molti di voi l'hanno giocato nelle mitiche sale giochi che adesso ovviamente non ci sono più sono completamente sparite ma io mi ricordo negli anni 80 e 90 quando ero un pischellino avevo 10 anni mio papà mi portava a giocarmi 2000 lire di gettoni nelle sale giochi e c'era questo gioco qua che era veramente portentoso i tempi era una roba epica veramente era epico ovviamente dovete guardarlo con gli occhi degli anni 90 se lo guardate con gli occhi degli anni 2013 2014 ovviamente è un gioco che fa schifo insomma è una stupidata però a molti di voi secondo me piacerà l'altra cosa è iscrivetevi a Google Plus soprattutto a Google Plus anche a Facebook uno perché riesco a leggere se mi dovete non so parlare di qualcosa lasciando perdere i commenti ma perché ogni tanto io i commenti me li perdo su YouTube me li perdo diciamo che con Google Plus prossimamente potrei aprire per 10 di voi fortunati un hangout cosa è un hangout praticamente se siete muniti di cuffiette e auricolari cosa che io purtroppo in questo momento non sono più munito potremmo scambiarci cioè fare una chiacchierata tra amici e la potrete fare con l'ord cioè con me quindi 10 di voi fortunati avranno la possibilità di farmi domande e chiedermi tutto quello che volete insomma ragazzi vi dedico 30 minuti del mio tempo per veramente tutte le domande che volete farmi giochi che vorreste vedere sul mio canale insomma e via dicendo cose che volete che io faccia e iscrivetevi anche per lasciare commenti ovviamente per appunto scambiarci informazioni tante cose che magari non riesco non si riesce a fare nei commenti dei video anche perché se uno commenta il video dovrebbe essere un commento pertinente a quel video che uno vede un video poi nei commenti parla di altro quindi iscrivetevi sia a facebook che a google plus appunto per poter creare una community una community scusate di House of Lords degna della miglior community mondiale no sto scherzando comunque è una community di fan dove poter appunto dialogare così scambiarci idee dicendo ma mi sto già ripetendo quindi direi che posso anche chiudere qui e niente quindi ragazzi mi spiace veramente tanto perché in questi due giorni ho avuto problemi ieri ho avuto problemi a caricare il video di Spore l'ho caricato tardissimo perché ho avuto problemi sull'audio praticamente si sentiva scatti l'audio non l'ho capito perché l'ho montato tre volte la quarta è andato ma purtroppo era già sera e e oggi il problema delle stupidissime cuffie qua vabbè tra l'altro se le compro ragazzi sappiate che eviterò cercherò di prendere cuffie che non hanno più il filo perché veramente il filo è rompe le balle però è un filo super lunghissimo cioè me lo devo tenere praticamente in braccio come un bambino poi se mi alzo prenderò delle cuffie senza filo spero di trovarle e so più o meno già che modello spero di trovare quello sperando che non mi sparino cifre assurde comunque niente ecco per questo vlog direi che è tutto restate come sempre sintonizzati e a wanna gana sono solo castagne quindi andiamo a farci una bella castagnata sul loro pianeta innanzitutto testiamo questa arma suprema testiamo 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 testiamo